Gaza è il cimitero dei bambini, ha detto l'ONU nei giorni scorsi, e il numero di quelli morti dal 7 ottobre in poi non ha precedenti. Dall'Iraq all'Afghanistan, passando per l'Ucraina, i bambini oggi pagano un prezzo sempre più alto per le guerre. Vite spezzate, sogni infranti da conflitti decisi dagli adulti, con l'unica colpa di vivere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nuova stagione di Today, sabato alle 15 e 15.